Allora, quando mio nonno andava tranquillamente seduto in treno da Napoli a Portici a lavorare nelle grandi officine motori di Pietarsa, in altri posti d'Italia pascolavano ancora le pecore, noi non abbiamo da imparare niente a nessuno. Ma se quello lì che viene da Belga, allora abbiamo detto che da Monza, lo volete tacciare di chissà che cosa, si vergognassero. Certo, si vergognassero, si dovevano ribellare quando hanno mandato questi austro-undatici qua, ti dice Bombay, il museo di Capodifonte, là si dovevano ribellare. Buon lavoro ragazzi. Grazie, grazie. Sostenete il movimento. Grazie.